Questione di feeling, questione di cuore. Come si può dire di no a un tipo come lei? Un lebole per l'uomo in lebole! Un abito che fa di un uomo... Un uomo in lebole! L'economia ritiene in queste ore andata oltre il puro business. La ripresina della nuova 1R e il ritorno del marchio lebole non possono passare come semplici operazioni economiche. Dietro a quei nomi c'è la storia di Arezzo del dopoguerra. Anche da Via Roma, sede degli industriali, il commento è positivo. Il direttore Massimiliano Musmeci valuta con favore questa iniziativa. Sì, sono segnali positivi ed è bene che ci siano perché ovviamente il periodo è e rimane un periodo particolarmente complesso e nel 2011 non ci attendiamo francamente grandi e veloci cambiamenti. Il fatto che 1R abbia alla fine utilizzato meno lo strumento della cassa integrazione rispetto alle previsioni iniziali, anche questo è positivo perché vuol dire che anche lì le cose stanno ripartendo. Però nelle aziende nulla è veloce, il lavoro è tutti i giorni molto duro per cui come al solito siamo molto attenti alle vicende dell'azienda e speriamo che il percorso continui sulla strada che è stata intrapresa perché c'è effettivamente bisogno di segnali positivi come questo. Per quanto riguarda l'Ebole, l'Ebole sì, è una bellissima notizia. È tornata a Targata R. Sì, è tornata la Lebole, ho visto brillare gli occhi di Attilio Lebole nel dirlo sicuramente per lui è una decisione molto importante che sottende una volontà molto forte da parte sua e della famiglia di rimanere nel settore, di rafforzarsi nel settore e i settori intorno alla moda sono molto legati ai marchi per cui questo significa che c'è una forte volontà dell'azienda di continuare a investire nel settore e quindi non possiamo che esserne lieti.